E' stato battezzato il camper della scuola e nelle prossime quattro settimane toccherà tutti i capoluoghi di provincia toscani per spiegare a insegnanti, personale non docente e soprattutto cittadini i vantaggi per i lavoratori dell'accordo sottoscritto il 4 febbraio dalla Cisle con il governo. Recupero degli scatti di anzianità al posto dei premi anche per il 2011 e 2012, cosicché il passaggio di classe potrà garantire dai 290 euro all'anno del collaboratore scolastico fino ai 3.000 euro del docente delle scuole superiori al ventunesimo anno di carriera. E poi recupero della contrattazione integrativa a livello di ogni singola scuola per far sì che la distribuzione del fondo di istituto non si basi su criteri decisi unilateralmente dal dirigente scolastico. Questo è un accordo dal punto di vista sindacale che fa sì che la contrattazione nel pubblico impiego e caduta nella scuola e nei vari settori abbia ancora importanza mentre con le norme previste dal governo poteva venire meno questo tipo di rapporto con il lavoratore. La Cisle conferma l'impegno anche contro i tagli al personale della scuola previsti dalla riforma Gelmini per il prossimo anno scolastico. Stando alle prime proiezioni, si perderanno in Toscana quasi 1.100 posti di lavoro soltanto per il corpo insegnante, soprattutto nelle scuole elementari e superiori. Grazie a tutti.